Sono un centinaio le squadre, provenienti da tutta la Sicilia, che si sono iscritte al primo torneo regionale di calcio giovanile Baia Cornino di Custonaci, in programma dal 28 al 31 marzo prossimo. Cinque le categorie, dai Pulcini ai primi calci ai piccoli amici. Tra le società iscritte figura anche il Trapani. Hanno lavorato e continuano a farlo presso il cesso del torneo Giovanni Oddo, responsabile della scuola calcio, è lo staff tecnico composto da Rosario Solina, Baldocoppola, Michele Ganci e da Maurizio Grosso. Maurizio Grosso, alcamese, ha esperienza come allenatore di squadra giovanile e con professionalità cura i giovani che aspirano a diventare calciatori. E proprio ieri, la squadra allievi, 2001-2002, allenata da Maurizio Grosso, con una giornata d'anticipo, ha vinto il torneo provinciale, battendo per 6-0 l'Orona Mazzara. Grandi festeggiamenti al triplice fischio finale, sia in campo che sugli spalti. Con la vittoria al campionato provinciale, il Custonaci si è assicurato alla partecipazione a quello regionale. Un motivo di soddisfazione e tanti complimenti da parte della società, ragazze e familiari, a Maurizio Grosso per il buon lavoro svolto. Ora l'attenzione è principalmente rivolta al torneo regionale giovanile, alla prima edizione, ma che intende diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni.